Buongiorno amici di Italian Brew e benvenuti a Due Chiacchere a un Caffè all'Italiana. Come potete vedere oggi ci troviamo in un bosco perché andiamo ad intervistare una fata. Una fata che fa le magie, trasforma i problemi in poteri e ridona speranza ai genitori. Lei è la dottoressa Anna Biavati-Smith, logopedista, e ci racconterà un po' di lei. Eccoci amici, siamo qui con la fata di cui vi ho parlato prima e oggi ci racconterà un po' da dove viene, chi è, cosa fa. Ciao Anna, intanto. Ciao, grazie per avermi invitato. Sono emozionata. Allora, se vuoi raccontare ai nostri amici da dove vieni, chi sei, come mai sei arrivata a fare quello che fai. Allora, sono Anna Biavati, sono sarda e sono qui a Edimburgo da ormai 27 anni. Wow. 20 anni ormai fissa, fissa, fissa e i primi sette anni un po' di yo-yo, ma rimango, ma vado, ma mi piace, ma ritorno ad assaggiare un po' la roba che mi faceva la mia mamma, ma studia in Italia, quindi insomma poi alla fine, diciamo dal 98, sono fissa, fissa, fissa qua. E come mai sei arrivata a fare quello che fai, la logopedista? Allora, io nasco come educatrice, laureata in scienza dell'educazione, sempre in quei sette anni in cui ti dicevo vengo, rimango. E ti sei laureata qua, giusto? No, come scienza dell'educazione mi sono laureata in Italia, poi perché ho sempre lavorato con i bimbi, quando lavoravo negli asili, diciamo sono rimasta affascinata dal linguaggio, da come i bambini parlavano, poi ovviamente lavorando sia con bambini italiani che con bambini ovviamente britannici, ho detto, sai che ritorno all'università, quindi sono ritornata all'università di Edimburgo, il Queen Margaret University, e mi sono laureata in logopedia. Cos'hanno i bambini di speciale che ti piace lavorare con loro? La loro spontaneità è il fatto che i bimbi hanno sempre un qualcosa da darci, ci stupiscono, io sono fortunata perché ovviamente mi pagano per lavorare con loro, per aiutare la loro comunicazione, ma in realtà anche io mi arricchisco. Senti, io ho un po' sbirciato il tuo sito e ho guardato i tuoi video, e comunque mi sono posta come una bambina che sta guardando, che ti sta guardando, e quello che mi è arrivato è una, prima di tutto tanta leggerezza, di fronte comunque a qualcosa che non è così leggero, quello di cui ti occupi. E secondo, mi sono divertita un casino, è come se tu riuscissi in qualche modo a toccare la, proprio la parte più bambina, sei riuscita a toccare la parte più bambina di me. Sbaglio una sensazione, non so se... Allora, il gioco è un qualcosa che i bambini sviluppano da subito, un po' come la comunicazione, noi ci dimentichiamo, ci focalizziamo sempre su quello che è il problema, il fatto che i bambini non sanno parlare, per esempio i bambini appunto che non hanno ancora sviluppato il linguaggio, oppure i bambini, soprattutto quelli che tratto io, col mutismo selettivo, c'è sempre questo stigma, il bambino non vuole parlare. Io attraverso il gioco tiro fuori un po' la magia, perché il gioco è una forma di linguaggio, è una forma di comunicazione. Certo, e quindi i bambini sono contenti di stare con te? I bambini arrivano, io qui ho tutta una serie di giochi, e quindi loro, non dico che lascio proprio la scelta, però sanno che dietro l'armadione ci sono chissà quale gioco, andrò a giocare, esattamente. Ed è proprio così che attraverso il concetto del gioco, cinque anni fa, proprio così un video fatto a caso per un'amica, ma mi fai vedere come posso giocare col mio bimbo, è nata anche, diciamo, questo mio progetto che si chiama Insegnami a Parlare, e questo è tutto italiano. È quel mio link con l'Italia, perché comunque faccio tutto in inglese, io faccio logopedia in inglese, tratto con famiglie fondamentalmente che parlano l'inglese, anche se io sono specializzata in bilinguismo, perché non è il bilinguismo il problema, sono i bambini che hanno un disturbo specifico del linguaggio e ce l'hanno sia in italiano che in inglese, o qualsiasi altra lingua loro parlano. Quindi attraverso Insegnami a Parlare è nata proprio questa, cioè sono diventata una vlogger, esattamente come te, e ti dicevo prima che i genitori, cioè i video sono per i genitori e i professionisti, ma in realtà alcuni bimbi li guardano e mi dicono, i genitori, ah, dottoressa la saluta mentre lei fa vedere i giochi con le palle. Carini, che sono i bambini, mamma mia. Senti, volevo chiederti un'altra cosa che ci tenevo, perché a me capita, lavorando con i cani, io e i gatti, io sento gli animali, non parlano, quindi c'è proprio una connessione emotiva. Capita anche a te di connetterti emotivamente con i bambini? I bambini arrivano e hanno proprio tutto un loro modo di comunicare, è un amore a prima vista, io lo dico sempre. Cominciamo, perché ci deve essere quella connessione, quindi assolutamente capisco benissimo di che cosa mi parli, e loro attraverso sempre il gioco, da lì iniziamo a capire qual è la comunicazione, da dove dobbiamo iniziare. Perché comunque tutti, tu parlavi di patologie, è difficile come genitore sentirsi dire suo figlio ha un ritardo, o suo figlio ha un disturbo della comunicazione, non è facile dirlo e non è facile captarlo. Quindi io dico questo, non focalizziamoci su quello che è il problema, ma cerchiamo di trasformare quello che è il problema in un superpotere. Quindi soprattutto con i bambini col mutismo selettivo, far capire loro che comunque la loro paura non sarà sempre quella da fermarli a parlare. Certo, nulla è per sempre. Nulla è per sempre e poi c'è sempre una soluzione, che sembra un po' new age, sembra un po' sì, sono quelle positività che si dicono, però per me regalare e far capire le parole, quindi regalare le parole e regalare la comunicazione è una cosa importante, perché è questo che ci contraddistingue. Noi come esseri umani usiamo le parole o usiamo la comunicazione. Quindi potremmo essere belli, possiamo avere i capelli bellissimi, avere essere vestiti in tiro, ma se non riusciamo a comunicare non riusciamo a fare niente. Quindi il mio messaggio vuole essere attraverso capire la comunicazione o come comunicare, questo ci rende indipendenti. Bellissimo, starei ore a parlare, mi stavo incantando. E nel frattempo io veramente trovo un parallelismo tra quello che fai tu e quello che faccio io con i cani e guarda mi sembra di avere a che fare con quello che dici, lo capisco proprio mi arriva e spero che arrivi anche a voi. Ho un'ultimissima domanda da fare. C'è qualcosa che ti manca dell'Italia dopo tutti questi anni? Non so se... Allora, avendo visto tutte le altre interviste, mi unisco al mi manca il clima. Ecco. Io sono sarda, quindi il mare non riesco ad andare a Portobello Beach, non ce la posso fare. Non ce la faccio, quindi mi manca moltissimo. Mi mancano i profumi, quindi il poter mangiare un pomodoro e dire mia madre ha i limoni, possiamo parlare dei limoni? Mia madre ha dei bellissimi alberi di limoni e quindi andare giù in giardino, prendere un limone e tagliarlo, esatto, che ti rimane in casa. Non so come, un po' come se il freddo avesse portato via i profumi, però sai che ti dico, d'estate, come tutti noi, me ne vado in vacanza. In Sardegna, ragazzi, niente po' di meno. Senti, a proposito di Sardegna, noi chiudiamo sempre le nostre interviste con un saluto a questo punto in sardo. Se ce lo fai, i nostri amici saranno ben contenti. Io lo faccio in campidanese e si dice Asibiri. Asibiri a tutti e noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova intervista. Ciao, ciao, ciao. Asibiri a tutti e noi ci vediamo la prossima settimana.